E' proprio il caso di dirlo, buona la prima della Fiera dell'Epifania, targata Pierluigi Biondi. Prima volta della nuova amministrazione alle prese con la settantesima edizione della Fiera, è tutto affilato liscio, compresa la viabilità. Gente soddisfatta, un tripudio di colori e sapori, la settantesima edizione della Fiera, oltre 300 bancarelle nel centro storico e controlli serrati da parte di Municipale, Polizia Provinciale e Forze dell'Ordine che hanno sbarrato alle vetture gli accessi al centro storico. La Fiera come sempre ha visto molte presenze, complice alla bella giornata, sin dalle prime ore della mattinata. Le piadine sempre gettonatissime, gli stand delle associazioni sportive, la cui la calcio compresa, nonostante il freddo, gli aquilani sin dalle prime ore hanno visitato gli stand e hanno pure comprato. Comprare? Sai che ho già comprato un piatto. Com'è la Fiera dell'Epifania? Erano tanti anni, non ci venivo più oggi, questa bella giornata. Sono appena arrivata, allora ancora non lo so come. Bella. Lei viene sempre? Sì, sì, tutti gli anni. Un coltello, poi un coso per il ferro da stiro. È un appuntamento bello questo, non ci si rinuncia? Non c'è tanto, sì, infatti ho preso un giorno di ferie. Una bella giornata poi, insomma, che altro dire? È un po' più bello, è bellissimo. Bellissima, un po' meno bancarelle rispetto agli altri anni, la giornata è stupenda ed è sempre un piacere stare qui alla Fiera. Il sistema di aggregazione è diverso, però tutto sommato va bene. Mi auguro che possano fare buon affare in modo che l'anno prossimo possano ritornare. Io l'ho trovata perfetta, come prima volta che la nuova amministrazione è organizzata alla grande. I commercianti, complici anche i saldi di fine stagione iniziati oggi, sperano sempre negli affari della giornata, facendo prezzi scontati e vantaggiosi. Tante presenze che ormai sono fisse in città, che ogni anno attendono questo appuntamento con trepidazione. No, sono 21 anni con questo che vengo qui all'Aquila. È una bella cittadina, si lavora bene, la gente è simpatica. Ma bella perché è bella sempre, poi quest'anno siamo veramente gratificati a questa giornata meravigliosa, quindi ancora più bella. Il calendario degli emondanzi è il minimo sindacale per un aquilano. La fiera è tradizione nostra, la rivendichiamo con orgoglio, siamo contenti e spero che ci sia un afflusso ancora maggiore. Un evento che è sempre presente qua con l'Aquila a calcio, è una giornata dove sicuramente incontreremo tante persone e ci stringeremo attorno ai tifusi. Com'è l'Aquila, come trova questa fiera? Per noi è una bella fiera, sono 25-26 anni che veniamo a farla, più o meno sempre nel nostro posto, parte gli anni subito dopo il terremoto che ci sono stati spostati. Noi abbiamo una clientela affessionata, insomma. L'Aquila del resto è sempre l'Aquila, anche se tra Puntelli e Gru.